Sindaco Capuozzo, l'Acqua Quarto, la società che gestisce il servizio di bollettazione, il servizio idrica Quarto, ha avuto l'interdittiva antimafia e quindi gli uffici sono stati chiusi. Adesso? Gli cittadini ora dovranno rivolgersi, per quanto riguarda la bollettazione e tutto quello che veniva fatto dagli uffici di front office di Acqua Quarto, dovranno rivolgersi all'ufficio Tributi. Si ritorna insomma come era prima dell'appalto ad Acqua Quarto ed è importante che i cittadini sappiano che l'ufficio Tributi riceverà tutte le loro richieste e metterà la bollettazione e tutte le richieste che vengono fatte dai cittadini nei confronti dell'ufficio che era presente presso Acqua Quarto potranno essere fatte ovviamente presso il comune di Quarto. Quindi subentrerà un'altra ditta? In realtà la questione è abbastanza complessa. Noi avevamo già chiesto il commissariamento l'anno scorso, la ditta ha fatto il ricorso amministrativo che ha vinto, c'è il Consiglio di Stato ma gli opportuni provvedimenti avverranno in questi giorni e soprattutto è stato interrotto immediatamente qualsiasi rapporto con la ditta. E a proposito dei rapporti con la ditta, la stessa ditta aveva in appalto la realizzazione di via Seitolla. A questo punto che cosa succede per quella strada? Anche lì sono stati ovviamente interrotti i rapporti che ha la pubblica amministrazione nei confronti della ditta, questo è un appalto del 2010, la prima ditta aveva l'interdittiva antimafia quindi questa è già la seconda ditta e in questo caso ci sarà la messa in sicurezza del cantiere e poi si provvederà attraverso la sua all'espletamento ovviamente degli opportuni provvedimenti che saranno probabilmente della terza ditta. Se tutto ritorna nelle mani della stazione unica appaltante adesso dovrà dare l'incarico alla terza ditta per continuare il lavoro? Sì, assolutamente sì. In effetti come già ho spiegato prima, la prima già era stata colpita nel 2010 da interdittiva antimafia, la seconda viene colpita oggi quindi la stazione unica appaltante affiderà la terza ditta vincitrice dell'appalto. Nel frattempo si potrà circolare su quella strada? Ovviamente la messa in sicurezza del cantiere ci sarà, se sarà tale per poter consentire la circolazione si potrà circolare sulla strada.